Cliccate in segui e cliccate mi piace all'ultima foto che mi ha postato alle 14 di oggi pomeriggio Vi saluteremo in diretto Grazie, grazie, dopo ti saluto Sto dicendo grazie a quella che ha messo like alla foto su Instagram E dopo la saluto, ovvio Stitches You're a bitter heart cold to the tide Now I'm gonna reap what I sow I'm left seeing red on my own Got a feeling that I'm going under But I know that I'll make it out alive If I quit calling you my lover Move on You watch me beating till I can't be Shaking and falling onto my knees And now that I'm without your kisses I'll be needing stitches Continuate continuatamente mi piace sulla pagina Instagram RadioFoneOfficial Tutto attaccato alla foto che mi ha postato Dai che mi salutiamo Riricordo, vuol dire che ricordo ancora, riricordo che abbiamo postato la foto su Instagram Sulla pagina RadioFoneOfficial Entrate, seguiteci, cliccate like E potete entrare in diretta con noi che siamo in trasmissione adesso anche nel party time come ogni trasmissione Con la chiamata Whatsapp oppure il messaggino, il solito messaggino audio Aspetto messaggi I took a pill You don't get them girls loose You don't get the world loose You don't get money Mr. Worldwide But I do You don't get them girls You don't get the world loose You don't get money But I do Grazie a tutti E vai che ci siamo in diretta Continuate a mettere mi piace La foto su Instagram Dust out the party Non fermare la festa Ed eccoci prontissimi Per salutare gli amici su Instagram Prima saltiamo un pochino Tutti pronti Salutiamo amici su Instagram Salutiamo Esser Trottino basso Trottino basso Cosa vuol dire trottini bassi Vabbè Esser Trottino basso Trottino basso Cappella 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 Alessia Trottino basso Bellini Trottino basso Eleonora Baroni Giulia Gallina 03 KTO Dubai E Olly Trottino basso Galante Continuate a mettere mi piace Che vi saluto Tutti pronti In diretta Allora per chi non l'ha ancora fatto Visitate il sito internet della radio Trovate tutte le informazioni Su tutte le nostre dirette Il sito internet Allora adesso vi dico il link Però C'è la novità Che noi siamo quelli delle novità Andando sulla nostra pagina Instagram Radio Fan Office Sul mio profilo privato Lolloparo Trovate il link Tutti pronti Ok Quindi Il link È questo Oddio Un attimino Che devo cedere E vai che ci siamo In diretta nazionale Allora un attimo Ok ci siamo Sito internet Il link Se non lo capite Andate sulla nostra pagina Instagram Che c'è tutto a posto Radio Radio Trattino Phone P-H-O-N-E Punto Web Node Punto It Quindi Seguiteci Perché Dobbiamo aumentare E infatti Infatti su questo sito qui Ci sono tutte le informazioni Di questa fotonica radio Esplosiva La prima Della Station Web Che vi accompagnerà Per tutto questo periodo Anche in estate Ragazzi In estate Come in questo istante Live A bordo Piscina Non perdetevele Perché saremo In tantissimi Nuovi ospiti Avremo il piacere Di incontrare Anche nuovi voice Che ci seguono sempre Ma non vogliono mai Venire in diretta Chissà perché In diretta nazionale Radio Phone Station Non cancellateci Perché Quest'estate Ci saranno Nuovissime sorprese E anche In queste stagioni Qui Un pochino fredde Un po' Come si può dire Un po' fredde Così così Radio Phone È quella che vi porta Compagnia Quindi Rimanete collegati Adesso vi dico La data Precisamente Allora ragazzi Vi dico questo In esclusiva Solo per voi Di Radio Phone In esclusiva Solo per voi Di Radio Phone Station Ve la dico Occhio Ve la dico Hit me with the horn HONK 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 Hit me with the horn HONK HONK Allora ragazzi Vi dico subito Questa cosa Allora Ve la dico In anche Prima solo Per non voi Ascolatori Che ci seguite Live a bordo Piscina Di questa Estate Di Dill'estate Tra giugno No scusate Cominceremo Con le live A bordo Piscina Da luglio Infatti Si cominciamo Da luglio Finiamo Più o meno A fine di agosto Fine di agosto Inizio settembre Cominceremo Ok E la prima diretta live Dalla piscina Qui da noi In diretta Con nuovi ospiti Così così Sarà Domenica La prima live A bordo piscina Qui in diretta Radio Fondation Per 45 minuti Oltre Vedremo Sarà Domenica 2 luglio Dalle 15 Alle 15.45 Domenica 2 luglio 15 15.45 Quindi Segnate Ovviamente Che è un po' prestino Però Noi abbiamo già stabilito Le date che saremo Bordo piscina Ogni weekend In diretta A bordo piscina Se piove In diretta Dal nostro Gabbiotto Cioè Un gazebo Un gazebo Circa Saremo in diretta A bordo piscina Però dentro Un gazebo Quindi Saremo sempre così Siamo collegati Con la piscina Diciamo Questa è stata In diretta Dal 2 Sì 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 Dal 2 Dice O scusate Di Maria Allora Saremo in Diretta nazionale Radio Fondation Ve lo dico subito Un attimo Allora Sto dicendo Che saremo In diretta nazionale Radio Fondation Il giorno Il giorno 2 Giugno No scusate Vabbè che sto dicendo Radio Fondation The Dance Station Sarà in diretta Per la prima volta Stagione 2017 A bordo piscina Domenica 2 luglio 2017 Dalle 15 A bordo piscina Con l'intervista Ai bagnanti E DG7 Ecco Come avete sentito La pubblicità Rimanete Con noi Non scollegatevi mai Perché Ci saranno tante iniziative Anche per Pasqua In diretta Dovremmo vedere Un pochino Però Noi saremo Sempre in diretta Ogni festa Sarà in diretta Però Quella lì Della La pubblicità Per cominciare Comincerà Questa nuova iniziativa Che è cominciata Anche a metà Di l'estate scorsa Che ha avuto Grande successo Perché Molti ascolti E molti Amici Che ci hanno seguito E molti amici Che sono venuti A trovarci E Quindi A quest'anno Abbiamo pensato Di cominciare Un pochino presto 2 luglio Dalle 15 Alle 15.45 Con la live La prima live Bordo piscina E l'inaugurazione Di questa Bellissima piscina E Potrebbe cambiare La data Però Ve lo faremo sapere Perché Siccome Che ci sono Le condizioni Meteo adatte Quindi per inaugurare Ci serve un po' Un sole Diciamo Quindi se piove È inutile Faremo la solita live Dal nostro studio Quindi È 2 luglio Se non Dovesse piovere O catastrofe Atomosferiche Siamo in diretta Bordo piscina La prima diretta Esterna Dell'anno Quindi Rimanete collegati Su Radiofone Vabbè che Io ve lo dirò Anche nei giorni prossimi Nelle prossime dirette Ripeto Dal 2 dicembre Questa è la di Maria Mi vedo il nome a caso Dal 2 luglio Radiofone In diretta A Bordo Piscina 45 minuti Di spettacolo Musica E remix In diretta Su Radiofone Dalle 15 Ogni weekend Eccoci qui E come sempre Ecco il nostro promo Questo qui È un fatto al momento Però è venuto anche bene Ogni domenica Ogni sabato e domenica Dal 2 luglio Cominceremo Con le live A Bordo Piscina Non perdetevele Perché saranno delle live Bellissime Nuovi amici Nuove canzoni Nuovo di tutto Radiofone Ed eccoci qui Ritornati Finito Ancora minuti Non ma si Dai parliamo Allora Vi dico Domani Ore 15 15.45 Live Con la diretta Di Radiofone In mezzo C'è anche I party time Dopo Ultima domenica Ultimo sabato del mese Remixland Quindi da non perdere Ragazzi Dopo cosa ci succede Ah si Ve lo dico in anteprima Dal 2 luglio Radiofone È in diretta A Bordo Piscina Venite a provare Radiofone A Bordo Piscina Conoscete I nostri speaker Se Le condizioni Atomosferiche Dovessero essere Pessime Noi saremo Nei nostri studi E la diretta All'inaugurazione Verrà Svolta La settimana dopo Sempre di domenica 15 15.45 Bellissimo Ci vediamo domani 15 15.45 Questa È Radiofone E andate sul nostro sito internet Che trovate tutte le coordinate Sua nostra pagina Instagram Radiofone official Ciao Ciao